Buongiorno a tutti, benvenuti su Pezzi in Campania. Oggi stiamo facendo aperta irrigazione. Intanto vi faccio vedere come vi avevo promesso, che abbiamo messo a dimora le talee che ci siamo fatti da sole. E noi utilizziamo questo metodo. Facciamo un colmetto, circa due secchi del tericcio che abbiamo preparato e poi massaggiamo leggermente la terra col picchetto e adagiamo il vasetto sulla terra che poi accolmiamo con la terra che abbiamo preparato, lasciandolo in superficie in modo da poter far sviluppare la radice dentro questa terra che abbiamo messo e di andare a sviluppare il proprio apparato radicale sopra il terreno, in modo da consentire alla pianta di non avere ristagni idrici. Guardate come sono belle. Logicamente sono cresciute. Sono diventate circa un metro e venti. La canna da un metro e venti. La talea già sta andando bene. Bella verde. Alla prossima! Alla prossima!